zombie frontier 3 ultima versione aggiornata del 9 di agosto versione corrente 2.10 ricordo che questa è solamente una guida scopo illustrativo e non massimo nessuna espressività di danni o uso proprio del materiale come potete vedere vi da soldi monete quello che è tutto illimitato perciò potete aggiornare le armi senza dover spendere niente come potete vedere adesso proviamo a fare una giocata come potete vedere al giorno al giorno tranquillamente ho visto che non sempre riesce a connettarsi al google play però per divertirsi va più che bene dobbiamo fare una missione vai un gioco molto divertente molto fluido c'è anche la lingua italiana ricordo che questo è solamente una guida scopo illustrativo non massimo nessuna responsabilità è perfettamente funzionante ci sono diverse applicazioni tutto sommato è un bel giochino con questo spero di esservi stato utile e alla prossima ciao